Una tre giorni dedicata al giornalismo investigativo, le elezioni a Casal di Principe insieme a giornalisti e magistrati di lunghissimo corso. L'evento è stato organizzato dal Consorzio Agro Rinasce e dall'Uxi Caserta presso il Teatro Parco della Legalità. L'apertura dei lavori con il Presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli, il Segretario del Sindacato Unitario dei giornalisti della Campania Claudio Silvestri e il Presidente regionale dell'Uxi Pino Blasi. Perché Agro Rinasce ha sostenuto e sostiene questo progetto di scuola di giornalismo investigativo? Perché Agro Rinasce ma soprattutto il territorio ha una sua storia, ha una sua storia che è fatta di criminalità, di vittime innocenti ma anche di riscatto. Quindi nella sostanza far venire qua giornalisti da tutta Italia sostanzialmente, sia importanti, sia ragazzi, sia giovani, i giornalisti per noi è un motivo di vanto perché vengono a conoscere il territorio. L'importante è la testimonianza del magistrato Giuseppe Aiala. Si parla abbastanza di mafia oggi o no? No. Se ne parla solo ai corsi? No, no, se ne parla, se ne parla. Se poi pensiamo alla situazione precedente, non se ne parlava quasi mai. Anzi, io dico che spesso se ne straparla, ma perché se ne parla è sempre meglio. Il silenzio è quello che è più gradito ai mafiosi. Ci ha raccontato prima dell'incontro con Buscetta che è stato, come ha detto, fondamentale per andare a ricomporre le tessere. Sì, l'importanza di Buscetta fu proprio questa. Ci rendemmo conto che avevamo un sacco di materiale ma non riuscivamo a capire esattamente che cos'era perché non conoscevamo le regole di cosa nostra. Noi ci rendevamo conto che esisteva, qualcuno aveva qualche dubbio, noi no. Ma non conoscendo nulla di cosa nostra, tutto questo materiale investigativo, frutto, e lo voglio ripetere ancora una volta, dello straordinario lavoro della polizia giudiziaria, non avevamo riferimenti. Quando Buscetta ci racconta tutto su cosa nostra, sulla sua organizzazione, le tessere trovano la figura e nasce il Maxi Progresso. Così è nato il Maxi Progresso. Così è nato il Maxi Progresso.